Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video! Sicuramente tra di voi ci sono molti youtuber a ripremiarmi o persone che vogliono aprire il proprio canale youtube. In questo video vi ademostrarò un setup base per iniziare a fare video, quindi l'attrezzatura che serve per fare video di discreta qualità spendendo molto poco. Partiamo dall'oggetto con cui registrare il video, non vi posso consigliare altro se non il vostro telefono. Sì perché ormai i telefoni di oggi hanno una qualità video veramente alta che in molti casi può essere comparata quasi a una reflex. Poi ovviamente se avete già in casa una fotocamera decente e non una compatta da 100€ potete anche iniziare con questa. Un importante aiuto alla qualità video lo danno le luci. Per iniziare non vi consiglio assolutamente luci grosse come queste, vi consiglio lui un faretto led dell'Andor, è molto piccolo ma fa molta luce. Adesso non rende molto perché sono accese anche queste, perché le batterie sono molto scariche, ma vi assicuro che se guardate i miei primi video che di luce ne fa molta. Volendo c'è anche un modello della Momank, è molto più piccolo di questo, non funziona a batterie ma si ricarica col cavo proprio come il telefono, è molto più comodo. Però comunque per iniziare questo va più che bene. Ecco, non vi consiglio di utilizzare questo faretto con la luce di un lampadario perché magari una luce è calda, una luce fredda e viene fuori un video molto brutto. Vi consiglio di utilizzarlo da solo o in combinata con la luce naturale, quindi magari davanti a una finestra. Ci serve però un sostegno dove reggere il nostro telefono e il nostro faretto led, quindi ci serve un trepiede. Ecco, per iniziare col telefono non vi consiglio trepiedi grossi come questo con delle mega teste fluidi che magari arrivano anche a due metri. Cioè, potrebbero andare però per avere una qualità decente come questo bisogna spendere almeno 50-60 euro. Se volete un'alternativa più economica ma soprattutto più pratica, vi consiglio a lui il Manfrotto Pixi, un trepiede da tavola, al suo circa 20 cm, è molto piccolo e si può tranquillamente mettere in tasca. E devo dire che per iniziare a fare video con il telefono è perfetto. È così, perfetto, ma se lo volete anche duraturo nel tempo dovete stare attenti a come lo avvitate e al supporto che tra poco vi mostrerò. Perché se no succede come è successo a me, che non so se si vede, la parte sopra della filettatura, quindi quella che va a contatto con l'accessorio, si riduce. Quindi praticamente questo diventa un pezzo di plastica con delle gambe che si apre perché non si avvita più a niente. Quindi state attenti, a me dopo due anni è morto. Qui ha la vite per la fotocamera e quindi per attaccarci il telefono vi serve uno di questi, quindi un'adattatura. È una molla dove voi inserite il telefono che poi potete attaccare al cavalletto. Non vi consiglio questa perché su questa potete attaccarci solo il telefono. Vi consiglio questa, di una marca super cinese però comunque sembra decente, dove sopra è la slitta per il flash in cui potete anche attaccarci il faretto LED. Quindi questa se volete attaccare solo il telefono. Questa se volete attaccare anche il faretto LED. Quindi volendo già così con questo setup molto base si potrebbe iniziare a fare video. Ha un aiuto importante alla qualità video, lo dà la qualità audio. I microfoni nei telefoni sono comunque decenti, più accettabili per iniziare a fare video. Ma se volete già da subito fare un salto di qualità vi consiglio di comprare un microfono esterno. Come questo, un lavaliera. Quindi un microfono che si attacca alla maglietta e poi si può attaccare al vostro telefono. Io adesso l'ho attaccato a questo telefono per registrare appunto l'audio. Sono veramente piccoli, costano circa una ventina di euro. Ci sono anche quelli da 60, 70 ma questo comunque 20 euro devo dire che è più che buono. Ovviamente se io l'ho allontano dalla mia bocca, si sente di meno. Bisogna tenere un attaccato alla maglietta e volendo, come ho detto, si può attaccare al telefono. Fate attenzione che sia per il telefono. Perché alcuni sono per le fotocamere. Quindi questa soluzione per fare video così come li faccio io all'interno, devo dire che è più che ottima. Ma se volete fare vlog può essere scomodo avere tutta un cavo, una matassa di cavi del genere in tasca che poi si collega alla vostra mano. In questo caso vi consiglio un microfono della Rode. Il Rode Video Micro. Costa un pochino di più di questo qua, costa circa 50-60 euro. E si può attaccare sulla slitta dove vi ho detto prima di attaccare il faretto LED. Questo è un pochino più grande, più ingombrante, ma ha una qualità audio veramente ottima. Per fare vlog è più che buono. Ma se vi è scomodo fare vlog con questo microfono, potete anche tranquillamente utilizzare il microfono del vostro telefono. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. E soprattutto vi sia stato utile se siete youtuber alle prime armi. Iscrivetevi pure qua sotto nei commenti se avete dubbi o volete altre informazioni su qualcuno di questi oggetti. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo. Vi vediamo col prossimo video. Ciao! Fa un caldo con ste luci. Ecco, un difetto nelle luci così grandi è che dopo un po' sudate.